Come accennavo precedentemente la promozione del settore delle piastrelle del redobagno è fondamentale perché sono due settori che esportano oltre il 70% del loro fatturato. Il nostro sostegno deve essere continuo, prestante, su quanti più mercati possibili e noi abbiamo gli Stati Uniti, India, Brasile, Inghilterra, Russia, Paesi del Golfo, proprio a sostegno di questi due settori. Quindi questi sono settori per noi strategici e importanti e questa sera abbiamo una fortissima delegazione di designers, di architetti, di giornalisti che parleranno, riporteranno di questa grandissima manifestazione in questi mercati dove l'Italia è così fortemente presente. Ma noi ci impegniamo di più, sono essenzialmente, come ho detto, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Regno Unito, abbiamo molto in Russia, facciamo molto nei mercati del Golfo Arabico, ma insomma questo è perché il mercato, appunto la presenza delle piastrelle italiane soprattutto, ma anche della redobagno è molto presente. Quindi noi stiamo allargando, pensiamo alla Cina che è pure un mercato di produttori dove noi stiamo sempre più presenti, soprattutto con le fasce molto alte di mercato. Grazie.